L'idea impregnante del Rinascimento è che la forza creativa del genio, dono di Dio, che l'artista, sua longa manu, doveva tradurre in bellezza, armonia e stupore. La pittura del Mantegna è piena di fede nell'umanesimo, ancora non spento a Mantua, attorno al 1474, quando in una stanza mise ordine tra terra e cielo. Prevalendo la vista sull'udito, ascoltiamo. La volta è un cielo aperto alla bellezza che il pavone simboleggia. Otto putti alati si sporgono dalla balaustra, due infilando il capo tra i tramezzi. Due gruppi di donne ridenti, divisi da una pianta da gumi, guardano in giù nel pozzo a specchiare la loro giovinezza, ad ascoltare l'eco delle loro risate, mentre il profumo di zagara le avvolge. Noi, che sotto siamo, scorgiamo l'azzurrità del cielo, le gonfie nuvole primaverili, gli abiti leggeri come sorrisi. Accanto alla donna di colore, una bianca con acconciatura elaborata che rivedremo in capo a Barbara di Brandeburgo sulla parete sottostante. Come e perché può esserci a corte una cortigiana di colore così vezzosa? Era consuetudine per Venezia approvvigionarsi di etiopi di belle fattezze per soddisfare la curiosità di Isabella d'Este ed Anna Sforza, che al consorte preferiva dormire con la schiava preferita. Una Hohenzollern, qual era Barbara, non avrebbe tollerato tanta intimità per quanto abbia consentito con gentilezza di coprirsi il capo con un turbante all'Asiatica. Chi abita i medaglioni? Giulio Cesare ed Ottaviano Augusto, Tiberio e Calligola, Claudio e Nerone, Galba ed Ottone, Tutti fasciati d'erba, Fiori e frutta fresca, Omaggio mediterraneo, Di puttini alati. Nastri di vittoria riempiono le volte. Il sole irridente accende il desiderio. Lo stesso stemma è in bella evidenza sul petto del bianco destriero del marchese Ludovico. Il simbolo contiene nella parte inferiore la luna crescente, probabile omaggio allo stemma di Pio II, che imporporò cardinale il secondo genito del marchese Francesco, nonché fece vescovo di Mantua a nove anni il quinto figlio Ludovico. Osserviamo la figura dello scudiero, a piedi ed il ginocchio sinistro rivolti al bosco, in contrasto fisico con la posizione della mano ancor più con il collo. Uomo snodabile, avezzo ad ogni torcicollo. Se il cane è algarrese mezzo metro, Ludovico sarà stato alto 1,20, misura adatta ad un fantino, ma lo stallone di corporatura possente a gambe fragili, inadatte al salto e al galoppo. Un cavallo da salotto, insomma, che, giustamente, il cane ignora. La torre è un emblema consono a chi controlla e difende i suoi possedimenti con la forza e pochi ragionamenti. L'ultimo stemma, una roccia, si è con la Repubblica, sgretolata. Se ne trova traccia intatta nello stipite del palazzo ducale con motto in greco, senza colpa, ossia al di sopra di ogni giudizio. Il cane è da sempre simbolo di fedeltà. Questo, però, sembra ululare o uggiolare. Sospeso nel soffitto, si sente a disagio. Preferisce accucciarsi sotto il fal di storio del padrone, mentre dispone irreprensibilmente. Osserviamo lo sguardo. Deve aver già parlato. Ora, osserva la reazione del rispettoso ascoltatore dal volto asciutto, naso corvino, labbra sottili e quel che più vale munito di spadino assassino. Ludovico non gli consegna uno scritto. Ciò che ha detto deve imprimersi in un cervello agile nel trasformarlo in azione. Ludovico, in scranno, si confida con il vicario, sicario, di corte, Raimondo De Lupi. In nome Ome. Accanto a lui, in pompa magna, la moglie Barbara di Brandeburgo. Dietro di lui, il figlio Gianfrancesco, dal berretto rosso, il piccolo Ludovico e con la mela la figlia Paola. Alle spalle della sposa, Rodolfo, il figlio da lei prediletto. La nana, dal volto deforme, è Cecilia Gonzaga, che ci ricorda la malattia che la stirpe portava nel sangue, il rachitismo deformante. Paola Malatesta, sposa di Gianfrancesco, ne fu colpita dopo le nozze e la trasmise a Ludovico e a Carlo. Grazie alla dieta e alla ginnastica di Vittorino da Feltre, Ludovico contenne la gibbosità. Allarghiamo la scena. È il primo gennaio 1462 e si celebra la nomina a cardinale di Federico Gonzaga, avvenuta pochi giorni prima, il 18 dicembre 1461. Il personaggio con cappello nero, volto pallido ed occhi socchiusi potrebbe essere il benemerito Vittorino da Feltre. La bella giovane dietro l'infelice nana potrebbe essere la sorella Barberina ed accanto a lei ci può stare Cecilia, ormai monaca. La figura maschile con i guanti in mano e l'atteggiamento partato per taluni sarebbe il Mantegna. Nato a Piazzola sul Brenta nel 1431 avrebbe avuto 31 anni e ci può stare. Il giovinetto con spada per l'età e l'atteggiamento potrebbe essere Rodolfo il quarto figlio di Ludovico. Degli altri possiamo immaginare cerimonieri amici figure da dobbo osserviamoli tuttavia da vicino. Sei personaggi maschili calzano in rosa la gamba sinistra ed in bianco la destra. Fa eccezione il faccendiere confidente del Marchese poco convincente e l'incrocio di gambe sulla scala tra i due rivolti verso la nostra destra. Quello con vestito in velluto vede la sua sinistra malamente inserita nel busto. Alla sua sinistra quello con giubba dorata è in posizione certamente errata. se la sinistra rosata è un gradino sotto le spalle dovrebbero essere inclinate alla sua sinistra. Passiamo alla parete opposta. Vediamo un segretario sconosciuto il Marchese la sua famiglia ed ha figura piena il cardinale Francesco fresco di età e di nomina. Sotto di lui il futuro cardinale Sigismondo Gonzaga. Leon Battista Alberti di profilo ammira il paesaggio mentre Mantegna distrae lo sguardo dal futuro Marchese Federico I primogenito di Lodovico. L'incontro per noi è terminato con le presentazioni. Preferiamo guardarci attorno da sinistra tra le nuvole sospesa una città turrita gravita su un arco naturale attraverso cui s'allarga una collina primaverile un gennaio caldo o una libertà d'artista. Tutto italiano è il gusto di costruire abusivamente. che ci sta a fare quella torre grossolana sopra al bianco monastero? È quell'informe mascherone capace di graffiare le nuvole? Un florilegio quasi se ne avverte l'odore contorna servi e seguci. Sopra la porta angiolotti s'affannano a sollevare la tavola delle lodi mentre un paesaggio degno di miglior fattura offende la nobile natura. Finalmente l'occhio trova pace oltre l'albero mai visto. Una scultura romana un tempio rinascimentale. Alberti operava Mantua utilmente mentre una torre medioevale ingombra ogni passaggio anche visivo. Dietro suppongo si possa vedere montagnana trasportata in collina e lontani profili di prealpi oltre il Garda. L'appennino da Mantua non si vede. La festa è finita. Le tende sono pronte a chiudere la scena. se è camera è tempo di far uscire gli ospiti spegnere le candele e da sotto il pozzo attendere l'arrivo delle stelle. di Grazie a tutti.